Salve a tutti, sono Paolo Cilinei e sono qui per presentarvi Marwi, il primo robot cameriere che parla italiano. Il robot è stato sviluppato da un team romano composto da 5 elementi. Paolo Cilinei, CEO e Founder, Fabio Ferrarini, CTO e Co-Founder, Leonardo Pacini, Designer, Fabio Scaparro e Denis Rodondi, sviluppatori dell'Università La Sapienza. Siamo qui per realizzare il nostro sogno. L'idea è partita nel 2019. Oggi il primo prototipo è stato installato in un ristorante nella periferia di Roma ed è attualmente funzionante. Il nostro obiettivo è quindi di portare questo prototipo a un prodotto finito che sia accessibile su tutto il mercato della ristorazione. Grazie a tutti.